E' stata presentata oggi, 5 settembre, nella sala giunta del Palazzo Municipale di Pordenone, la mostra Annane Zavagno, la natura e le sue forme, disegno, pittura, scultura, mosaico, che sarà allestita alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato e inaugurata a sabato 15 settembre alle ore 18. L'importanza della mostra nelle parole dell'assessore alla cultura Claudio Cattaruzza. La mostra dedicata a Annane Zavagno va a completare quello che è un quadro di quest'anno di valorizzazione delle grandi personalità artistiche del nostro territorio. Dopo Italo Zani era un altro grande del nostro territorio, Annane Zavagno, a cui dedichiamo questa mostra antologica che comprenderà gran parte di opere inedite, ma anche dei richiami alle opere passate, come col mosaico, sculture, oltre a tutta una serie di disegni che costituiranno il vero elemento di novità. Per quanto riguarda l'altro elemento di novità è che diamo finalmente corpo quello che è la definizione di sistema, sistema culturale, per cui questa mostra avrà due sedi che comprenderanno gli enti che effettivamente hanno in questi anni proposto l'arte contemporanea, cioè la Casa dello Studente, il Centro di Iniziative Culturali, con la Galleria Sagittaria e la nostra Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato. Ci sarà una terza sede che è quella della Banca Popolare Friuladria, quindi un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato che spero possa dare i frutti sperati per sottolineare l'omaggio a Annane Zavagno, grande artista, ma anche che possa essere un laboratorio per iniziare un percorso diverso nell'ambito dell'organizzazione delle iniziative culturali della nostra città. La mostra ad ingresso libero potrà essere visitata fino al 30 dicembre. Grazie a tutti.